Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video di StumbleGuys, io sono Vapor e oggi sono qui per presentarvi questo mega videozzo molto 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 interessante nel quale vi presento un box opening, un grande box opening che collezionando pian piano tutti gli StumbleCoins siamo riusciti ad ottenere andremo a fare un po' di giri epici quindi guardate tutto il video perché c'è la possibilità di ottenere una skin speciale vi ricordo come tutte le volte di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i video perché usciranno ad esempio oggi pomeriggio uscirà un video shorts in quanto non riuscirò ad andare in live anche domani e anche domenica quindi ci vediamo direttamente in live poi lunedì quindi mi raccomando subito un po' di like ozzi perché voglio vedervi belli 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 carichi mi raccomando Stambolino Gaisello profilo aggiornato perché siamo arrivati finalmente a 40 win 40 win che ci hanno permesso di ottenere comunque un po' di refresh dell'account 6800 coppe quindi parliamo comunque di un account che si conferma essere molto 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 solido andiamo subito a fare un po' di giri gratis che ci permettono magari di ottenere sapete quelle sorpresine lì un po' mistiche un po' un po' così come può essere ad esempio questa skin leggendaria al grande troll finale del VAP che non ottiene purtroppo la skin leggendaria per veramente veramente poco sarebbe stato veramente epico adesso giro fortunato che ci dà un gettoncino viola quindi lo prendiamo molto 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 volentieri gettoncino viola preso alla grande altro giro gratis che ti prego droppami qualcosa di decente te prego droppami qualcosa di decente come ad esempio queste 10 gemme molto molto bene le 10 gemme gg per noi perché queste 10 gemme ci servono un sacco per perché poi voglio andare a shoppare passi il prossimo ma saranno tutte cose che faremo pian piano struttureremo la programmazione dell'università quando inizierà effettivamente l'università prima di fare la partita voglio prendere quest'ultimo quest'ultima ricompensa del pass che si tratta di una skin casuale epica o superiore vi ricordo che abbiamo l'1% di probabilità di trovare una skin speciale cosa molto 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 rara perché non dipende solo da quello ma anche da altri fattori però questa skin leggendaria potrebbe esserci molto molto utile non ce l'avevo gg per il red panda approfitto della cosa per andarla subito a provare in partita quindi dopo facciamo un po' di box opening insomma guardate tutto il video trovate tutti gli altri box opening barra tutti gli altri video qualsiasi video che ho fatto su stumble guys è recato e presente sul canale lo trovate qua nelle schede cliccabili vi basta cliccare e siete automaticamente entrati dentro tutta la sezione dei miei video di stumble guys cannon climb mappa abbastanza ostica per quanto mi riguarda in quanto non sono un grande player di questa mappa qua detto questo però comunque ci sono qualche trucchettino che si può utilizzare senza troppi problemi e quindi senza senza farci prendere dal dal panico ecco possiamo andare tranquillamente a sgrindellarcela abbastanza abbiamo preso 18 palloni in faccia nel giro di penso mezzo secondo quindi sicuramente non è un grande inizio per il vap anzi presumo una grande un grande un grande non passaggio del vap in questo livello possiamo comunque fare ancora il trick questo qua mistico da qua che non è niente male tagliamo tutto sperando che non ci prenda una palla in faccia e forse se ci è andata proprio bene riusciamo ancora a qualificarci ma purtroppo siamo arrivati i diciottesimi e questo non ci ha permesso di fare la qualifica approfitto della situazione allora per andare subito a fare un primo box openino dato che abbiamo ben più o meno all'incirca 8 cose da aprire ne aprirei subito 2 così senza troppi problemi ne mettiamo subito 2 sotto i forni guardiamo cosa ci capita attenzione subito la prima skin la princess che il vapor non aveva seconda skin probabilmente niente di particolare perché giustamente abbiamo già delle skin monarch quindi due skin nuove che vanno molto molto bene anche se molto simili tra di loro che vanno ad implementarsi all'interno del nostro armadietto epico che vi ricordo essere un po' scarno quindi ci stanno subito due nuove skin da mettere dentro sono molto molto contento floor flip livello map up dove generalmente conta soprattutto l'inizio quindi cerchiamo subito di non fare cavolate mistiche all'inizio che mi sembra che il vapor non debba fare più di tanto riusciamo a saltare senza nessun tipo di problema molto 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 easy così nel chillong saltiamo da qua easy per noi saltolino da qua via giro quadrato e il vapor è in piena forma signori questo qua però passa a destra perché purtroppo ogni tanto mi capita di fare l'errore di passare a sinistra quando in realtà devo passare a destra questa cosa l'ho scoperto magari ci mettiamo di qua ma io non lo so ma si qua hanno capito che bisogna mettersi di qua per fare sbilanciare un po' il coso non hanno capito niente easy quanto godo quanto godo che avete sbagliato proprio tutto nella vostra vita signore c'ero easy per il vap terzo quindi podio per il vap l'importante è prendersi comunque sempre la medaglia di bronzo perché quella di rame non ci piace molte volte purtroppo ci capita proprio quella di rame qua super entra in maniera abbastanza facile dentro dentro la dentro la qualifica e gg per super immediatamente 9 su 16 ragazzi 9 su 16 nella grandissima qual 10 su 16 attenzione che qua voglio fare il grande colpo vuole fare il grande colpo il vap nella semifinale vedremo subito la mappa che ci capita solitamente non sono mappe eccezionali almeno quelle che mi capitano a me ultimamente sono sempre di squadra e robe che non mi fanno impazzire più di tanto ma vedremo subito assieme quale sarà il nostro destino 16 persone rimanenti parliamo quindi di una semifinale successivo buono il calciolino il calciolino lo posso anche accettare stumble soccer ci stiamo via viene il chillonx pam attenzione il vap che pallonetto che fa il vap subito in allontanamento la difesa avversaria prova il cross in mezzo niente da fare viene respinto gli attaccanti comunque del vap rimangono sempre qua siamo sempre vi ricordo 1 a 0 palla che viene allontanata ci provano in tutti i modi altro pallo della squadra del vap arriva il vap che prova in tutti i modi ma qua è arrivato il momento di buttarsi dentro attenzione il vap allontana una palla abbastanza importante devo provare indirizzare ma niente da fare ok grande parata del vap questa evita una situazione molto 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 scomoda mamma mia la giocata del vap che si tuffa giù nella porta sua per arrivare in attacco il tiro prova subito un 3 a 1 che lascia poco spazio a varie varie immaginazioni anzi solo certezza sia che il vap questa partita qua non la vincera mai attenzione che però il vap arriva e allontana ben due di palle non una ma ben due e qua si butta subito dentro perché bisogna subito di andare a dare sostegno alla squadra il vap subisce l'attacco da parte di un giallo proviamo subito ad andare sulla faccia di destra dove vedo gli attaccanti gialli togliere la palla ne scartiamo uno tiro niente non ce la famo si andrà soli ma quello che è quando si andrà soli è questo il problema ci proviamo ci proviamo palo 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 niente abbiamo perso la grande perdita del vap che si smaterializza in questa maniera poco poco gloriosa arrivano quindi subito altre tre rotelline perché ne voglio aprire soltanto cinque voglio tenermi altri cento oggettoncini per altri video quindi non voglio subito spogliarmi tutte le cartucce skin porchop che abbiamo già no in realtà no non ce l'abbiamo già è l'altra versione quindi gg altra skin nuova questa qua ce l'abbiamo già quindi un doppione altri 15 15 gettoni incassati no no e ti prego una bella skin potente forse questa qua non ce l'abbiamo si non ce l'abbiamo easy quindi 15 gettoncini incassati perché abbiamo trovato un doppione il video ragazzi termina qua spero che vi siate divertiti spero che vi sia piaciuto come al solito vi ricordo che il video di domani uscirà alle ore 14 di iscrivervi al canale attivare la campanella per non perdervi i video short e niente ciao belli ciao 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 ciao